no eccomi ciao a tutti gennaio 2018 primo video dell'anno e io ho passato cari ragazze e cari ragazzi tutte le vacanze natalizie a pensare ripensare qual era il tema per il primo video dell'anno poi ho pensato veramente tanto fino al punto che mi si è acceso una lampadina e ho pensato perché non fare un video sui best seller del 2017 di etienne ovvero su quei prodotti più venduti o più utilizzati che hanno avuto più recensioni positive nell'arco di quest'ultimo anno e così è nato questo video però siccome il 2017 è stato un anno molto laborioso per la mia azienda siamo usciti con la linea di acrilico che si chiama secret siamo usciti con la linea di session ciglia lashes e con tante collezioni di gel colorati smalti semipermanenti accessori fare un video su tutti i best seller della nostra azienda o della mia azienda sarebbe stato veramente lunghissimo e siccome io non amo particolarmente i video troppo lunghi perché mi scoccio, vi annoio, io già 20-25 minuti non li reggo questa tipologia di video, hanno video più shorts, più piccolini, ho cercato di estrapolare nelle tre categorie principali di etienne che sono i gel color, gli smalti semipermanenti e gli hd whastep quelli che a loro volta erano i top seller 2017 e abbiamo estrapolato quattro gel colorati, perciò quattro, che sono l'hautun mod della linea nude ed è il nude numero 13, poi il prosecco della linea glimmer glm 15, il last red cls 29 della linea classic e poi con mio molto piacere l'unicorn che è un gel color che è uscito credo tipo il 15 dicembre, perciò ho avuto se no 15 giorni di vita nel 2017, ma il gel di 11 è diventato un best seller immediatamente. Poi due semipermanenti, eccoli qua, io ho sempre problemi con le bottigliette, spero si vedano bene, uno è il nude che è il QCK38 e un altro colore molto bello, è il lolly red, il QCK25 e due hd one step, a loro volta il skin hdc 21 e il lussuria, se non ricordo male che è l'hdc 30. Ovviamente nelle info box qui sotto troverete i nomi, i codici dei prodotti e i siti di riferimento dove andarli a vedere. Adesso vi lascio all'applicazione, così gli spieghiamo meglio i prodotti e come mai o perché sono diventati i nostri top seller 2017 ci vediamo dopo per i saluti finali, ciao! Hot Mood fa parte della collezione dei nude, il suo codice è il nude 13, è un tono di fango, di color nocciola possiamo dire così, che si presta bene sia per le carnagioni schiare o molto chiare, sia per le carnagioni molto scure un po' come nel video di presentazione che contiene questa collezione Outun in Love ho spiegato la differenza tra le tonalità chiare e le tonalità scure cosa possiamo dire in più, perché è diventato un best seller? perché è un colore che secondo me non ha stagionalità può essere utilizzato e applicato tranquillamente d'estate può essere applicato tranquillamente d'inverno perciò sia nelle carnagioni molto abbronzate che non è un colore che si presta veramente veramente bene ha riscontrato un ottimo successo un po' per tutte le tipologie di carnagioni Prosecco GLM05 fa parte della famiglia dei Glimmer è un best seller, anzi possiamo dire che è un best seller da quando è nato questo colore perché appena è inserito in catalogo è diventato subito uno dei nostri cavalli di battaglia è molto particolare, il suo colore come dice anche il nome richiama un po' quel colore oro caratteristico del Prosecco, dello champagne è arricchito di microparticelle dorate la particolarità risiede oltre che queste microparticelle nel fatto che passando il dito sopra la tip o sopra l'unghia non si sente la, come dire, la micro glitter caratteristice appunto dei gel glitterati sicuramente anche per il 2018 sarà uno dei nostri best seller Last Red è il CLS29 della linea dei classic, sempre gel color posso affermare con assoluta certezza che questo è il top best seller 2017 perché è un tono di rosso veramente molto intrigante è il classico rosso vernice, rosso lacca quando io immagino un rosso immagino il Last Red non è un tono corallo, perciò non è un rosso che tende all'arancione non è neanche un rosso che tende al marrone, perciò al cotto ma è proprio il rosso, secondo me, più bello insieme al rosso Etienne che abbiamo nella gamma dei rossi di Etienne Unicorn, codice GLD11 della famiglia dei Glitter Diamond in più questa famiglia abbiamo aggiunto un aggettivo hologram perché questi gel glitterati hanno la particolarità o la peculiarità di avere al loro interno dei micro glitter olografici perciò rendono questo gel colorato unico nel suo genere veramente unicorn, è stato una grande rivelazione perché è un gel color che è uscito praticamente, credo, il 15 di dicembre perciò ha avuto una brevissima vita nel 2017 ma nonostante i suoi 15 giorni di vita del 2017 è diventato immediatamente un best seller perché la particolarità di questi glitter, di queste polveri di queste paillette che lo compongono lo hanno reso veramente un cavallo di battaglia della mia azienda si chiama Unicorn e si vede perché richiama un pochettino la polvere Unicorn che tanto si è usata sia quest'inverno ma soprattutto quest'estate sicuramente è un gran bel gel ed entra veramente di diritto nella famiglia dei best seller con tanto di cappello smalto semi permanente il codice QCK38 della famiglia dei Quick Nail perché questo colore è diventato un best seller 2017? questa è una bellissima domanda perché se lo vedete dal vero questo colore già parla da solo cioè non ha bisogno di spiegazioni è un elegantissimo e secondo me raffinato colore di base è rosato con un pizzico di beige al suo interno che lo rende armonioso adattabile a tutte le tipologie di carnagioni dalle skin alle dark perciò anche per le community dark le community riesce ad accontentare un po' tutte le tipologie di clienti è quel classico color nude che la cliente ci chiede quando anche la cliente non ha ben chiare le idee di che cosa è per lei un colore nude questo colore tende appunto ad accontentare tutte le nostre clienti Holy Thread smalto semi permanente della famiglia dei Quick Nail il codice QCK25 questo colore si è imposto nel 2017 per alcune caratteristiche peculiari secondo me in quanto fa parte della famiglia dei rossi però non è né un rosso troppo fragolato né anche un rosso troppo cupo è un rosso cannella a me piace definirlo così è un rosso che riesce ad accontentare tutte quelle clienti che desiderano che ci richiedono un rosso però che non amano quei rossi troppo fucsia o quei rossi troppo tendenti al bordeaux Skin HD One Step il codice HDC21 della famiglia degli smalti semi permanenti 3 in 1 ovvero quegli smalti che non richiedono né base né top e non mi stancherò mai di ripeterlo è un delicatissimo color pelle ecco perché si chiama Skin è una sorta di beige molto chiaro un color sabbia per intenderci considerate sempre che a monitor comunque è sempre un tono o un tono e mezzo più scuro rispetto alla realtà è diventato un best seller nel 2017 perché ha cavalcato l'onda perché quest'anno possiamo dire che è stato l'anno dei colori nude di tutte queste mode e tendenze di questi color sabbia, color terra lo Skin ha la particolarità di adattarsi benissimo un po' a tutte le carnagioni perché non è né troppo scuro né troppo chiaro ed è un best seller 2017 ma secondo me lo ritroveremo anche nel 2018 Lussuria già il nome ragazzi solo per questo diventa secondo me un best seller 2017 è uno smalto semi permanente 3 in 1 della famiglia dei HD One Step il codice è l'HDC30 è un allegro frizzante fucsia è un best seller perché? perché non è il classico fucsia aggressivo come lo chiamo io a volte perciò di quei fucsia molto accesi è un bellissimo tono di fragola è molto elegante perciò su un'unghia medio corta è stato veramente il best seller di quest'estate questo colore ne abbiamo venduti veramente tanti le recensioni sono state positivissime perché comunque gli HD One Step sono degli smalti semi permanenti molto corposi autolucidanti perciò non richiedono sigillatura e già questo di per sé è un punto un enorme punto di vantaggio per questo colore eccomi qui per i saluti finali spero che questo video vi sia piaciuto nonostante le innumerevoli problematiche che ho avuto oggi nel realizzarlo tra cani che abbaiavano motorini che passavano signore che urlavano e purtroppo Valermo è una città di un milione di abitanti e trovare un momento nell'arco della giornata in cui c'è il silenzio è veramente veramente difficile il prossimo video lo farò tipo alle 4 del mattino sperando che riesco a essere più silenzioso l'ambiente dove lavoro sia più silenzioso però nonostante questo diciamo che lo abbiamo terminato spero vi sia piaciuto perché mi è piaciuto tanto parlare dei prodotti best seller 2017 anche perché c'erano dei colori che non credevo fossero dei best seller invece poi ho constatato che lo erano e realmente sono dei bei prodotti se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale guardate anche gli altri video se vi interessa sapere scoprire qualcosa di più sulla linea di Etienne mettete un like e se avete qualche domanda da farmi potete sempre scrivermi nei commenti qui sotto è stato un piacere ciao a tutti al prossimo video